Stanco degli atteggiamenti gelosi e possessivi di Lulu, Manuel si è finalmente fatto coraggio ed ha chiarito la sua posizione circa il loro rapporto. Nel dialogo che ha avuto oggi pomeriggio con Lulu, Manuel non l'ha quasi mai guardata negli occhi ed ha evitato qualsiasi contatto fisico, come a voler confermare anche con i gesti che per lui la situazione è chiaramente chiusa. Tu non mi conosci per niente, ha ripetuto il concorrente del GF VIP quando la principessa ha provato a interpretare le sue espressioni, facciali palesemente scocciate. Prima di lasciare il divano, Bortuzzo ha fatto un'altra precisazione sulle sue intenzioni. Non sono venuto qui per cercare una fidanzata. Aile Selassie però sembra non comprendere le parole del notatore, tant'è che prima di salutarlo gli ha detto che spesso immagina un futuro con lui, ovvero momenti che potrebbero condividere fuori dalla casa di cinecittà, come farebbe una qualsiasi coppia. Manuel è andato via senza aggiungere altro, ma stavolta i fan del reality non possono rimproverargli di non essere stato chiaro con Lulu, che invece continua a non voler vedere la realtà per com'è veramente.